Uomini ma soprattutto donne e bambini in fuga dalla Siria. L'emergenza a profughi a Milano non ha fine. Il flusso continua ad aumentare di giorno in giorno e le risposte da parte del governo non arrivano. Ogni giorno a Milano arrivano treni in stazione centrale da sud a nord con l'obiettivo di spostarsi ancora più a nord. Germania, Paesi Bassi e Scandinavia per raggiungere le famiglie e avere un minimo di assistenza grazie alle politiche sociali di quei paesi. I dormitori ormai sono esauriti a Milano. Spesso in molti sono costretti a dormire in stazione centrale sul mezzanino. L'assessore alle politiche sociali di Milano Pierfrancesco Maiorino attacca le ferrovie dello Stato che non hanno ancora messo a disposizione uno spazio adeguato dove accogliere le persone estremate dal viaggio. A metà aprile erano 5.000 gli arrivi dalla Siria. Ora il totale parla di circa 10.000 persone transitate a Milano a cui il comune ha dato assistenza. Numeri che metterebbero in crisi qualsiasi città a cui vanno ad aggiungersi anche quelli dei profughi eritrei. In Porta Venezia da molte settimane i nuovi arrivati girano per il quartiere. Prima in largo Bellintanni fino a 300, ora sparsi intorno ai giardini pubblici dove possono abbivaccare. Più volte Maiorino ha chiesto un intervento deciso da parte dell'esecutivo, in particolare al ministro degli interni Angelino Alfano, ma per il momento nessuna risposta.